Un 1-1 da leggere come? Leggere positivamente, non per il risultato ovviamente, ma per la crescita e per quello che abbiamo fatto, soprattutto vedere il secondo tempo. L'unica nota stonata, secondo me, è quello di non essere riusciti a reggere al gol di vantaggio che avevamo fatto, che poteva essere importante. Questo campionato è determinante in quelle situazioni là. Quando vai in vantaggio difficilmente ci sono dei ribaltoni. È successo oggi perché è una giornata un po' particolare, un po' per tutte le squadre, ma vedere ribaltoni in questo girone, in queste categorie, non è da tutti i giorni. Quindi mantenere il vantaggio poi ti dà la possibilità di sfruttare al meglio quelli che possono essere gli spazi e soprattutto le ripartenze che gli avversari ti concedono. Ecco, a proposito degli avversari, naturalmente ci sono anche loro sul campo, eravate riusciti a sbloccarla con quel gran tiro di Don Zà, poi le farò una domanda proprio su Don Zà perché per la prima volta lo ha inserito dal primo minuto. Però ecco, dopo quattro minuti c'è stato questo traversone dalla sinistra, un po' tutto troppo facile, così ho detto io, per la fermana. Insomma, un po' di disattenzione. No, ma più che disattenzione, secondo me, anche qualità dei giocatori avversari. Sapevamo che loro avevano questi giocatori altissimi davanti e dovevamo essere più bravi, secondo me, a contrastare chi ha messo la palla, quindi accorciare queste distanze e ci doveva essere una lottura diversa, secondo me, dentro l'aria. Però, come abbiamo detto, gli avversari fanno parte del gioco e già riuscire a mantenere abbastanza alto il baricentro della squadra, non subire gol per un tempo o tiri in porta, è una cosa importante per noi, solo che dobbiamo essere più cattivi poi ad andare a difendere quello che poi ci conquistiamo sul campo. Don Zà l'ha ripagata subito con un gran gol. Don Zà è un ragazzo, oltre che è un ragazzo eccezionale caratterialmente, è un giocatore in più che ci troveremo strada facendo, che sta crescendo fisicamente e che tutti quanti siamo contenti di averlo in squadra perché, oltre alle sue qualità tecniche e tattiche, è ovvio che fa ancora di più l'importanza e spessore quello che è il ragazzo stesso. Si è inserito benissimo nel gruppo, così come gli altri, è un ragazzo che non fa pesare il suo passato e i ragazzi l'hanno accolto in maniera straordinaria e sta facendo di tutto per essere nel migliore delle condizioni prima possibile. Domenica si torna in campo, ha in mente qualche altro mini turnover? Mini turnover o non mini turnover, cercheremo di valutare tra domani e dopo domani quelle che sono le condizioni generali dei ragazzi un po' più affaticati, qualcuno ha preso qualche botta, qualcuno ha avuto i crampi come Don Zà e poi cercheremo di capire i migliori da far scendere in campo.